Presidente Lucio Fusaro, siamo qui in Power Volley Academy con uno sfondo scelto per l'occasione per questa intervista perché ci ricorda sicuramente un evento storico per Power Volley che è il record di pubblico nella storia della regular season, 12.343 spettatori al forum di Assago, che è anche un sembolo di speranza per il futuro prossimo della palla a volo che si è presa a tornare in campo con la speranza appunto di poter rivedere persone al palazzetto. Certamente sarebbe un peccato non vedere il pubblico durante le partite, ma non solo le nostre, sto pensando anche al basket, sto pensando al calcio e a tutti gli sport di squadra, quindi sarebbe veramente un peccato mortale. Tuttavia io credo che se proseguono i comportamenti quasi virtuosi della popolazione, se i casi saranno sotto controllo, se potrebbe essere che esiste un compromesso fra non fare nulla, cioè avere zero spettatori e avere i palazzetti pieni, quindi potrebbe essere un buon inizio, cominciare a dire una percentuale dei vari palazzetti potrà essere riempita. In questo è importante che tutte le società, tutte le regioni, tutte le leghe si uniscano per avere un progetto che abbia un senso. Un lavoro di squadra come quella squadra che è stata allestita per l'Allianz Power Volley Milano, ormai prossima all'inizio di questa stagione, più che del campionato, perché i primi impegni ufficiali, Presidente, riguardano quella che è la Coppa Italia e poi dopo appunto ci sarà il campionato. Certamente il lavoro di squadra è fondamentale nello sport e fuori dallo sport, nelle attività sportive e nelle attività sociali. Quindi il fatto di avere la possibilità di poter avere il pubblico sarà una cosa straordinaria, perché fra breve cominceranno le partite, fra breve cominceranno le gare serie, fra breve cominceranno tutte le attività e questa è la soddisfazione che vorrei riconoscere a tutti quei tifosi che ci hanno seguito e che hanno fatto e che voglio ringraziare in questo momento, hanno sottoscritto la campagna Abbonamenti, perché è evidente che tutti questi sono state figure che hanno dato un contributo non indifferente allo sport. Nel contributo globale per la promozione della pallavolo ovviamente un ruolo importante lo costituiscono i partner e da questo punto di vista devo dire che gli sforzi congiunti della Lega tra l'altro hanno portato ad un risultato importante che è quella del credito d'imposta, quindi insomma un segnale del fatto che lo sport vuole rilanciarsi sotto tutti i punti di vista, compreso da questo aspetto. È evidente che quando le cose vanno bene è facile fare pubblicità, è facile fare sponsorizzazioni, è facile fare attività sociali. Quando l'economia non va tanto bene tutte le società sono un po' restie a fare questo tipo di attività, ma mi è sembrato molto 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 importante che le leghe tutte insieme, maschile e femminili di volley, le leghe di basket e tutte le associazioni che si sono messe insieme, abbiano raggiunto questo risultato fondamentale per poter far proseguire lo sport, che è fondamentalmente un'attività sociale molto ma molto importante. C'è un sogno nel cassetto del presidente Lucio Fusaro in termini immediati rispetto a da presidente per quello che sarà il futuro della pallavolo? Insomma io posso parlare della mia squadra, mi immagino che tutti i campionati cominciano sempre da 0 a 0 e poi dopodiché ci si gioca in campo e si hanno delle sorprese. L'anno scorso noi siamo riusciti a battere i campioni del mondo che erano reduci dalla vittoria, campioni del mondo, campioni d'Europa, campioni d'Italia che erano reduci dalla vittoria del campionato del mondo, siamo riusciti a vincere a Perugia con un 3 a 0 inaspettato, questo stesso risultato è un risultato importante di pubblico e anche di risultato sportivo. Io credo che i sogni di qualsiasi presidente siano quelli di vedere la propria squadra primeggiare nel mondo. Cominciamo a dire che noi siamo in un anno complicato e quindi vedremo come andranno le cose quest'anno. Un sogno invece, presidente, da appassionato di sport? Da appassionato di sport mi piacerebbe che lo sport tornasse o arrivasse a essere quello che deve essere lo sport. Non esistono dei risultati, non esistono delle società, non esistono delle comunità che non abbiano bisogno di una questione che è lo svago e quindi il divertimento, ma allo stesso tempo nel caso del nostro sport anche un'educazione sociale, un'educazione che vada nella direzione di essere utile alla società in cui noi viviamo. Grazie. 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 Grazie.